Ciao cari colleghi, sono Steven Thomas e sono qui con Enrico Zanini, direttore generale di Cosmoprof per condividere con voi la novità di Cosmoprof 2020 per gli operatori della bellezza. Abbiamo tantissime novità, inizia una nuova decade e vogliamo dare al Cosmoprof la possibilità di presentare quelle che sono le tendenze della decade 23. E quindi questo è l'argomento che viene sviluppato in tutti i settori, in cui esistono la concettura e chi verrà al Cosmoprof potrà vedere. Ci sono tantissime novità anche a livello di interazioni, congressi, anche con beauty streams che è anche molto importante per noi, con le previsioni del futuro della Cosmese, c'è tanta partecipazione per i professionisti. Cosmoprof è un momento di contenuto, ci stiamo negli ultimi anni focalizzando e sviluppando queste parti perché riteniamo la cosa più importante per gli operatori, i visitatori devono tornare a casa con qualcosa di più rispetto a prima dell'inizio della manifestazione. questa partecipazione è una cosa più importante per gli esperti perché il Cosmoprof è una calamita per gli esperti mondiali che vengono a condividere la loro conoscenza con gli operatori per sempre stare adeguati. Che puntata migliore del Cosmoprof di Bologna, quello numero uno più importante a livello mondiale? Sono d'accordo, considerate che da noi visitano oltre 150 paesi e quindi è un'occasione veramente per scambiarsi idee, informazioni, contenuti e per conoscere nuove operatori perché il mercato negli ultimi anni è veramente veloce e Cosmoprof cerca di seguire questo passo. Fantastico, grazie mille. Ragazzi, Cosmoprof 2020 a marzo, inizia 12 marzo e devi venire tutti quanti per starci insieme e condividere per un futuro migliore della bellezza. Grazie dottore. Grazie a voi, grazie a Parruccherando e del lavoro che sta facendo che è veramente importante. Grazie mille.